spa monteverdi siamo in provincia di siena una struttura meravigliosa che vi farò assaporare in compagnia della nostra amica la spa manager sarah ciao andrea benvenuto ti accompagno facciamo un bel tour della nostra meravigliosa spa con grandissimo piacere illustraci le meraviglie allora andrea iniziamo a fare un bel percorso della nostra boutique spa sono dei corridoi che ti accompagnano alle nostre meraviglie vedo anche dei dettagli interessanti tutto si basa sui dettagli all'interno della nostra spa come per tutto il resto della struttura ciao benedetta buongiorno andrea dove siamo qua qua siamo nella nostra area rituali a mamma quindi come puoi vedere è tutto allestito in preparazione di un nostro rituale dal venuto del tè che io tra l'altro proverò fiori d'arancio fango e qua vengono fatte una serie di rituali di origine medio orientale ma interpretati in chiave toscana e questo per me è molto importante perché tu sai quanto io credo nella fusion e nella reinterpretazione made in italy la bellezza di questi trattamenti si scopriranno solo vivendoli bene dove mi accompagna adesso invece siamo nella nostra prima stanza trattamenti non parliamo di cabine perché come puoi vedere c'è tutto un dettaglio architettonico le stanze riproducono delle antiche celle monastiche senesi si è meraviglioso e mi sembra che qui siamo affacciati anche sulla val d'orcio giusto sempre affacciati sulla val d'orcio in ogni angolo della spa allora salutiamo i nostri amici con questo panorama e intanto io vado a prepararmi per il trattamento che vi racconterò più tardi grazie sarà dopo ciao ciao ciao